Un colonoscopio all'endoscopia digestiva e all'oncologia, due pc portatili, tre carrozzine, tre piantane porta flebo, tre sedie con ruote e un armadio per cartelle. Sono le ultime donazioni degli amici dell'oncologia LASL VCO del valore totale di circa 40.000 euro. Noi siamo contenti di poter essere utili innanzitutto ai pazienti che hanno problemi di malattie oncologiche e sicuramente anche a tutti i sanitari che combattono tutti i giorni questi problemi a fianco dei pazienti. Una donazione molto gradita anche perché noi abbiamo la necessità di avere della strumentazione che ci renda accelere il lavoro. Questo ovviamente ci fa recuperare del tempo prezioso da dedicare alla visita dei nostri pazienti e per i pazienti stessi il fatto di avere a disposizione delle carrozzine adeguate o comunque degli strumenti d'uso aumenta sicuramente il loro comfort. Qual è l'utilità di questo nuovo colonoscopio e da cosa si differenzia rispetto agli strumenti già in vostro possesso? Rispetto agli strumenti tradizionali il colonoscopio è leggermente inferiore come diametro ed è più lungo di 40 centimetri. Consente di risalire in colon difficoltosi e quindi ci permette di risolvere le problematiche di raggiungimento del cieco in situazioni particolari o di aderenze o di substenosi o di tortosità accentuate. Si parla oggi di colonoscopia. A livello di ASLA-VCO c'è ancora un'importante lista di attesa per questo esame. Era attorno a un anno l'attesa? Sì, diciamo che l'attesa per le classi di cosiddette differibili purtroppo ancora ha dei numeri importanti sebbene noi stiamo mettendo in atto una serie di attività e di azioni per governarle come si suol dire. Le attese sono alte appunto per i D anche perché noi abbiamo preso delle decisioni di investire molto sulle urgenze ovviamente e poi molto su una cosa nella quale crediamo tanto che è la prevenzione, quindi tutte le colonoscopie richieste nel percorso del progetto Serena in caso di persone che alla ricerca del sangue occulto nelle feci risultino positive. Invito tutta la popolazione over 50 ad aderire al progetto Serena per la prevenzione del colon retto perché cambia la storia naturale della malattia e quindi cambia dalla morte alla vita.